giocando a rincorrersi quando si entra in contatto con l'avversario si cerca di scappare come è possibile accorgersi di essere stati toccati sono forse i vostri vestiti a sentire quel tocco o è la vostra pelle ovvero le mura del vostro tempio vivente a partecipare al tocco pensate che la vostra pelle possa sentire quando vi fate male provate dolore è la vostra pelle che prova dolore se posate la mano su un pezzo di ghiaccio dite che è freddo se siete al buio e toccato un oggetto anche senza vederlo siete in grado di dire se è ruvido o liscio rotondo o quadrato è la vostra pelle che sente tutto questo no siete voi che controllate tutto dall'interno come un telegrafista che dal suo ufficio controlla un intero sistema di fili vediamo come ciò possa accadere nei piccoli rigonfiamenti della pelle le papille vi sono alcuni piccolissimi organismi chiamate cellule del tatto da un'estremità di ogni cellula del tatto parte un filo sottile chiamato nervo che la collega al cervello proprio come il filo del telegrafo permette al telegrafista di una piccola stazione di collegarsi alla stazione più importante di tutta la città il cervello è la vostra stazione più importante ed ogni piccola cellula del tatto è in stretto contatto con questo organo meraviglioso alcune cellule del tatto fanno percepire il freddo altre il caldo ed altre ancora il dolore altre invece hanno l'incarico di avvertirvi ogni volta che qualcosa entra in contatto con la vostra pelle per migliaia di anni l'umanità non ha potuto utilizzare il telegrafo perché non era ancora stato inventato è passato davvero molto tempo prima che un paese potesse ricevere dei messaggi provenienti da un luogo lontano sono esistite sulla terra delle tribù che vivevano così lontane da noi che quando venimmo a sapere della loro esistenza erano già estinte da anni è stato dio non l'uomo a collocare un sistema telegrafico nel vostro corpo ed egli non ha dovuto attendere migliaia di anni per avere quest'idea e poterla realizzare fin dall'inizio egli concepì che nel corpo di ogni uomo donna o bambino vi fosse un perfetto e completo sistema di comunicazione che collegasse il cervello con tutte le parti del corpo con ogni muscolo osso o cellula a partire dalla testa per arrivare fine piedi senza questo sistema di comunicazione il tempio vivente andrebbe subito distrutto se avete una mano troppo vicina ad una stufa e nulla vi avverte che il calore si sta facendo pericoloso potreste ostionarvi seriamente prima ancora di accorgervi del fatto ma l'architetto celeste ha pensato anche a questo e quando il calore diventa insopportabile il filo vivente dentro la cellula del tatto trasmette al cervello il messaggio di pericolo questo messaggio arriva a destinazione con la velocità del fulmine e il cervello emette immediatamente l'ordine di togliere la mano a volte qualcuno utilizza delle sostanze dannose e allora il sistema telegrafico non funziona più come dovrebbe e non è più in grado di soccorrervi nei momenti di necessità ma questo è un discorso lungo che ci porterebbe troppo lontano le cellule del tatto sono più numerose sulle labbra sui polpastrelli delle dita sulle punta sulla punta della lingua sulle guance sulle palpebre e sul palmo della mano ciò trova la sua spiegazione nel fatto che queste sono le zone del corpo con cui voi toccate il mondo esterno più frequentemente vi sono comunque guardie del tempio sparse su tutta la pelle sempre allerta nel caso in cui qualche parte del corpo avesse bisogno di aiuto nelle persone cieche il senso del tatto è molto sviluppato se un uomo è cieco i piccoli organismi del tatto devono infatti supplire alla mancanza della vista una volta ho visto un ragazzo cieco che lanciava in aria una palla ed ascoltandone il rumore riusciva sempre a prenderla prima che ricadesse per terra sia il tatto che l'udito lo aiutavano poiché non aveva la vista anche le cellule del tatto che sono presenti nella bocca e lungo l'esofago sono molto utili perché ci impediscono di ingerire cibi troppo caldi che potrebbero causare delle ustioni pericolose grazie Grazie.